Buone notizie per i residenti della zona nord. Sono proseguiti a ritmo serrati per tutta la giornata di ieri i lavori lungo la panoramica dello stretto, interessata dalla scorsa settimana da una frana nel tratto comprese tra il torrente Pace e la fiuma Raguardia. Oggi sono in fase di ultimazione i lavori di rimozione del materiale pietroso e la sistemazione del vallone di protezione tra la collina e il muro di contenimento. Considerato che la situazione attuale consente una ridotta transitabilità dell'arteria stradale, e nelle prime ore del pomeriggio al via la riapertura di almeno una corsia nel tratto chiuso al traffico, permettendo così un deciso alleggerimento del flusso veicolare sulla litoranea. La messa in sicurezza del costone collinare che sovraste il muraglione di contenimento ha impegnato molto i tecnici della città metropolitana e le maestranze della ditta, ingegnerie e costruzioni, sia per le difficoltà legate alla situazione dei luoghi, sia anche per la franosità del sito che è composto da sabbia e ghiaia. Gli agenti della polizia metropolitana, presenti senza soluzione di continuità, continueranno a presidiare la zona fino alla conclusione degli interventi.